Buongiorno Friuli e buon giovedì giovedì 20 luglio e anche questa mattina noi siamo pronti puntuali per la nostra prima diretta dedicata come sempre alla lettura delle notizie principali dei quotidiani di oggi. Iniziamo però questo buongiorno Friuli dando un'occhiata innanzitutto alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Andiamo a vedere cosa ci dicono gli esperti dell'Osmer Arpa. Ecco la cartina con le previsioni. Al mattino avremo bel tempo con cielo sereno su tutta la regione. Dal pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile. In montagna sarà probabile qualche isolato rovescio temporale specie al confine con il cadore. Non escluso localmente anche su qualche zona di pianura. Sulla costa soffierà brezza sostenuta, caldo affoso nel pomeriggio in pianura e di sera sulla costa. Vediamo le temperature massime di 31-33 gradi oggi in pianura. Andiamo a vedere anche le previsioni per la giornata di domani. Venerdì vediamo come sempre la cartina che troviamo sul sito dell'Osmer Arpa. Su pianura e costa avremo cielo da sereno a poco nuvoloso con caldo affoso mitigato sulla costa dalla brezza che soffierà sostenuta nel pomeriggio. Sui monti cielo sereno a poco nuvoloso al mattino variabile o nuvoloso nel pomeriggio. Anche domani sarà probabile qualche temporale in montagna specie su Alpi e Prealpi Carni che non escluso anche su qualche zona di pianura. Temperature in leggero aumento. Vediamo massime domani di 31-34 gradi in pianura. Dopo questo sguardo al meteo andiamo a vedere anche qual è la situazione viabilità sulle principali autostrade della nostra regione. Andiamo sul sito infotraffico di Autovie Venete. Vediamo la cartina che ci racconta la situazione in tempo reale. Al momento nel tratto di A4 presente nella nostra regione non ci sono incidenti da segnalare. Vediamo però come sempre i cantieri per la realizzazione della terza corsia. Attenzione quindi a questi cantieri. E dopo il metto e la viabilità andiamo subito sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Li vedete alle mie spalle. Andiamo subito sulla prima del Corriere della Sera che oggi apre con la politica, con le dimissioni di un ministro del governo Gentiloni, il ministro Costa. Ecco il titolo. Gentiloni perde un ministro, il responsabile degli affari regionali. Avevo i piedi in due scarpe, dice Renzi. Si vota nel 2018. Costa lascia e va con Berlusconi. Il premier assicura nessuna crisi. Andremo avanti. E ancora, sempre per quanto riguarda questa notizia, andiamo a vedere gli scenari, il sollievo di Palazzo Chigi con le dimissioni di Costa. Il premier Paolo Gentiloni ha disinnescato una mina che rischiava di mettere in difficoltà il suo governo. E poi vediamo anche il piano per svuotare AP, la strategia di Berlusconi. Niente ingresso diretto in Forza Italia ma un piano per svuotare AP e creare una lista autonoma di esuli. Questa è l'idea intorno alla quale starebbe lavorando Silvio Berlusconi. Andiamo a centropagina adesso. Andiamo in Francia dove si è dimesso il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate. Polemica per i tagli e si dimette il generale de Villiers. La guerra di Macron via il capo delle forze armate in polemica con il presidente Macron. Motivo dello strappo tra il generale e il presidente, i tagli operati alla difesa. Andiamo di spalla adesso e torniamo in in Italia. Alcune intercettazioni nell'ambito di un'inchiesta sulla ricostruzione nel dopoterremoto ad Amatrice hanno riscontrato delle situazioni simili a quelle che si erano verificate dopo il terremoto all'Aquila. Risate sul sisma come all'Aquila. Intercettato mentre rideva in vista dei nuovi affari che si presentavano dopo il terremoto da Amatrice. Un imprenditore Vito Giuseppe Giustino è finito gli arresti domiciliari con altre 14 persone. Dalle indagini accuse che vanno dalla corruzione alla turbativa d'asta. Si ipotizza un giro di mazzette e uno scambio di favori su 12 gare per il restauro e il recupero di edifici storici. E poi ancora il 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio in cui perse la vita il giudice Borsellino ieri le cerimonie. Mattarella accusa errori su Borsellino. Errori e incertezze nel cercare la verità. Il presidente della Repubblica Mattarella davanti al CSM chiede di fare luce sulla morte di Paolo Borsellino 25 anni dopo l'attentato in cui il giudice venne ucciso. E sulle motivazioni per il no alla scarcerazione di Riina emergono intercettazioni in cui il boss rifiuta di pentirsi. Mi diano pure 3.000 anni di carcere. Chiudiamo il Corriere della Sera e andiamo velocemente anche sulle altre prime dei quotidiani nazionali. Andiamo su Repubblica e vediamo che anche in questo caso l'apertura è dedicata alle dimissioni del ministro Costa. Il governo ora perde un pezzo ma non scatta la corsa a destra. Lascia Costa, Interim a Gentiloni e Renzi dice non cambia nulla. Le parole invece di Api, ipocrita. Andiamo a vedere anche le altre notizie a centro pagina. Si parla del maxi esodo dei pensionati italiani all'estero, maxi esodo dei pensionati, giornalisti fuga a Lisbona. Va precisato che tutto è legale dice subito Sergio Rizzo, ci sono anziani all'estero per necessità ma ci sono anche i furbi. A centro pagina ancora incendi alle porte di Roma, il fuoco, seconda vita di Fabrizio il padre ma non è un piromane. È stato fermato il presunto responsabile di alcuni incendi che sono stati appiccati nei giorni scorsi alle porte di Roma. E poi ancora il tour dell'ex presidente statunitense Al Gore, la marcia di Al Gore mi ha tradito. Fermiamo Trump. Andiamo adesso anche sulle altre prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo a vedere la prima pagina di Libero che titola così oggi in apertura come fregare denaro agli italiani soldi a chi va, a chi viene scusate pensioni a chi va. L'Inps lancia l'allarme, boom degli assegni pagati all'estero e la maggior parte viene data a chi ha pochissimi anni di contribuzione. Intanto ai profughi che arrivano non odiamo 5 miliardi. Con i ricongiungimenti crescono gli immigrati mantenuti senza aver versato nulla. Andiamo anche sulla prima pagina della verità. Vediamo che anche in questo caso in apertura c'è proprio questa analisi da parte dell'Inps che apre la caccia ai pensionati. il presidente Boeri si scaglia contro l'anomalia di chi si gode la vecchiaia all'estero dove tasse e costo della vita sono inferiori e vuole intervenire assieme all'Agenzia delle Entrate. Ma lui c'entra, si chiede il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E poi vediamo anche a centro pagina la foto del piccolo Charlie. Scudo per Charlie è cittadino americano. Gli Stati Uniti hanno deciso di concedere una cittadinanza particolare per il piccolo che potrebbe ricevere delle cure sperimentali negli Stati Uniti. Un caso che sta continuando a far discutere. Andiamo anche sulla prima pagina del manifesto. Vediamo anche questo titolo di apertura. la rabbia saudita. La protesta delle donne saudite esplode in rete e salva dal carcere la ragazza con una minigonna accusata dalla polizia religiosa di aver indossato abiti offensivi. È l'ultima di una serie di campagne contro la segregazione femminile nel paese. Primo alleato dell'Occidente dove l'oppressione è legalizzata. Andiamo anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. il titolo Lotti non è sereno. Peggio di così c'è solo il mio arresto. Il ministro fu intercettato il 2 gennaio sul telefono del manager Renziano Bianchi. Nelle nuove carte anche i timori per l'appartamento preso al buon Matteo a Firenze. La cosa mi inquieta. Queste le parole dette dal ministro Lotti durante una conversazione telefonica. E a proposito di intercettazioni telefoniche vediamo anche sul Fatto Quotidiano. Si ride pure su Amatrice il ras delle copie in festa per il sisma. L'intercettazione per un'inchiesta sugli appalti di 8 anni fa. Ecco il titolo. E poi ancora andiamo a vedere anche la prima pagina di avvenire. In questo caso in apertura abbiamo le parole di Mattarella. Ieri in occasione della cerimonia per i 25 anni dall'uccisione di Borsellino. Il presidente ammette i ritardi ma sprona all'impegno. Colpo ai clan. La mafia si batte. Mattarella. Errori ma non è un male. Ineluttabile. Montenegro diciamo basta alla logica criminale. Queste le parole del cardinale Montenegro che è appunto intervenuto ieri alla cerimonia per il ricordo dei 25 anni della strage di via D'Amelio. Chiudiamo anche avvenire. Andiamo adesso sulla prima pagina del Sole 24 ore. Vediamo le principali notizie economiche di oggi. Sud Industria e Startup trainano la lenta risalita. Il check-up Confindustria SRM resta alta. La disoccupazione giovanile servono investimenti. Il presidente di Confindustria Boccia dice altro che pensioni ora pensare ai eh giovani avanti con il taglio del cuneo eh fiscale. Questa la eh posizione di eh Confindustria. Chiudiamo adesso questo quotidiano. Chiudiamo questa parentesi dedicata alla stampa nazionale e andiamo subito sui quotidiani locali su Messaggero Veneto Piccolo e eh Gazzettino. Vediamo il Messaggero Veneto di Udine il titolo di apertura. Non vaccinati l'ottanta per cento dei bambini. Il test della procura sui piccoli affidati all'assistente sanitaria eh indagata. Ci sono i risultati appunto dei test effettuati eh dalla procura eh di Udine sullo scandalo finte vaccinazioni eh sono stati ehm effettuati su duecento eh bambini l'ottanta per cento dei quali è risultato privo di eh copertura eh vaccinale. Lo scandalo l'ottanta per cento dei bambini senza vaccinazione. Test della procura su duecento bambini affidati a Emanuela Petrillo coperti i piccoli con profilassi effettuata da altri eh operatori. Questa la notizia principale questo quanto emerso appunto dall'analisi di questi ehm prelievi disposti eh dalla eh procura di Udine che sta eh conducendo eh l'inchiesta. Vediamo anche le parole del procuratore eh De Nicolo che dice a breve potremmo comunicare i prossimi eh passi. Gli accertamenti potrebbero allargare il raggio dei eh sospetti. L'assistente sanitaria indagata per falso rischia fino a eh due anni di eh carcere. Come detto eh l'indagine la sta portando avanti la procura eh di eh Udine trasmessi ai magistrati di Udine gli atti del procedimento avviato dai colleghi veneti di Treviso che ipotizzano anche il reato di eh peculato. Questa è la notizia di eh apertura. del messaggero Veneto di oggi ma andiamo a vedere anche le altre notizie riportate in eh prima pagina andiamo nel eh taglio alto e eh andiamo a vedere questa novità eh che riguarda una ehm delle infrazioni eh più ehm più registrate appunto eh dalle dalla polizia municipale ma anche dal dalla polizia stradale eh riguarda l'utilizzo delle cellulare alla guida è in ehm al vaglio del Parlamento un eh un provvedimento che inasprisce le pene per chi guida con il cellulare e cellulare alla guida linea dura patente sospesa fino a sei mesi stancata stangata già alla prima eh eh infrazione il eh provvedimento è in discussione alla commissione trasporti della eh camera ovviamente non è ancora stato approvato ne è entrato in vigore però eh prevede appunto questo inasprimento delle eh sanzioni per chi eh viene pizzicato alla guida con il eh cellulare. E poi eh i risultati della commissione d'inchiesta sui eh poligoni ehm militari uranio nei poligoni il Cellina Meduna è eh nella lista eh nera questo quanto emerso dal lavoro della commissione d'inchiesta che è stata presa che è stato presentato nei eh giorni scorsi ecco l'articolo nelle pagine interne eh Commissione uranio poligoni a rischio conseguenze ambientali nell'area del Cellina Meduna a livello nazionale allarme per l'esposizione ad agenti eh cancerogeni eh qui nel eh nella relazione eh presentata dalla commissione parlamentare d'inchiesta sull'oranio impoverito viene dunque eh citato anche il caso del poligono del Cellina eh Meduna eh dove solo da poco eh si legge proprio nella relazione eh sono iniziati i lavori eh di eh bonifica eh a fine marzo si dice ancora nell'articolo di Piero Tallandini una nota congiunta dell'ARPA e della centotrentaduesima brigata Riete aveva comunicato che le ultime analisi sulla radioattività del suolo avevano ormai escluso rischi per l'uomo entrato nel resto del eh nell'ultima fase l'intervento avviato quattro anni fa su iniziativa dell'ARPA dopo la scoperta di livelli sopra la soglia di metalli eh pesanti. Nelle prime indagini era stata trovata la presenza di Torio 232 in quantità superiore a quella del fondo naturale dovuta all'utilizzo fin dal 2004 di missili Milan nelle delle esercitazioni. Questa è la eh situazione del eh poligono eh del Cellina eh Meduna. Ritorniamo in prima pagina adesso vediamo che anche il messaggero Veneto ricorda in prima le dimissioni del ministro Costa al ministro agli affari regionali ma ritornando alla cronaca locale vediamo a eh centropagina a proposito di controlli eh sulle auto l'entrata in eh attività delle nuove eh telecamere che eh controllano il ma attraverso i numeri eh di targa se i veicoli sono in regola anzi hanno l'assicurazione e se hanno eh superato il collaudo. La telecamera che incastra i eh trasgressori collaudo RC auto revisione controlli in via eh Cividale. Questo è il titolo della fotonotizia che troviamo a centropagina e poi nelle pagine interne abbiamo tutti eh gli altri eh articoli che appunto ci spiegano nel eh dettaglio cosa sono, cosa fanno e dove sono state installate queste eh telecamere. Accese le telecamere che leggono le targhe, rilevano le auto non assicurate e revisionate, aiutano a fermare gli autori di eh reati. Sono state installate in eh eh in tre punti della eh città. Eccoli elencati in questa grafica. Incrocio via Le Venezia, via Firenze, via Lettricesimo, vicino alla rotonda la di Moret, incrocio via eh Cividale e eh Carletti. Ieri appunto il primo test in eh via Cividale e già pizzicati alcuni automobilisti. Basta un tablet e la pattuglia sa eh dove eh agire. Ecco il eh titolo dell'articolo. Che adesso chiudiamo per ritornare in eh prima pagina e andare a vedere anche eh le altre eh notizie. Eh ci sono due notizie di cronaca nera eh di spalla. Eh due persone scomparse nella giornata eh di ieri. La prima mentre stava lavorando a Tarvisio, malore mortale sui prati del eh Lussari. Questo il titolo dell'articolo che poi eh troviamo anche nelle pagine interne. Fabrizio Chiapolino, cinquantatre anni, dipendente della Cop Valcanale, colto da un malore sulla pista di eh Prampero mentre stava tagliando l'erba. E poi sempre per quanto riguarda eh la cronaca da Tarvisio andiamo a Mortegliano, vinto dalla malattia, muore a trentanove anni. La comunità piange Andrea Comand, meccanico contitolare dell'officina Garage, in via eh Buiatti. Oggi alle diciassette i eh funerali. E poi ancora eh tornando in eh prima pagina andiamo a vedere eh un'altra eh notizia che troviamo poi anche in apertura del fascicolo dedicato a Udine e eh provincia. Un caso di eh aiuti alimentari lasciati, abbandonati vicino ai cassonetti della eh spazzatura in via Petrarca a Udine. La pasta buttata e l'indignazione dei eh cittadini. Scatoloni di cibi non scaduti in via Petrarca. Qualcuno li recupera, altri chiamano la eh polizia. Queste le foto e eh poi appunto abbiamo tutto l'articolo che racconta eh l'accaduto. Al momento non si sa ancora chi abbia abbandonato appunto questi eh scatoloni con eh pasta e altri aiuti eh alimentari eh che eh appunto non sono stati utilizzati ma sono stati abbandonati tra i rifiuti. E a proposito di eh rifiuti andiamo a vedere anche quest'altro articolo che eh ci porta a ehm eh ci porta a ehm ci porta a Lignano. Eccolo troppi furbetti dei rifiuti. In arrivo le fototrappola dai materassi ai eh sanitari dalle sedie arrugginite a divani e bancali. L'assessore Ciubei dice tolleranza zero contro gli autori di questi gesti eh incivili. Sono in arrivo. Quindi le fototrappole eh per eh chi abbandona eh questi rifiuti nei posti in cui appunto non si dovrebbero eh lasciare. Cambiamo decisamente argomento adesso e andiamo nelle pagine dedicate alla eh cultura. In eh primo piano c'è il concerto della fanfara della brigata alpina Giulia in programma sabato alle ventuno nel piazzale del castello di Udine. Un concerto in occasione dei cinquant'anni della fanfara che nacque nel mille novecentosessantasette. E vediamo appunto alcune immagini di un concerto della eh fanfara in piazza Libertà a Udine. Questi i titoli le notizie principali del messaggero veneto di Udine eh di oggi andiamo però anche nel ehm taglio basso della prima pagina dove troviamo un'altra eh notizia un'altra eh scomparsa quella di eh Adomo Zanghini scompare a centun anni il maestro eh partigiano. Vediamo la notizia richiamata in prima pagina e poi anche in questo caso nelle pagine interne tutto eh l'articolo. È morto eh l'ex partigiano Miao. Aveva cento un anni maestro elementare. Dopo la liberazione Adomo Zanghini aveva insegnato in diverse scuole del Friuli. Domani l'ultimo saluto. Chiudiamo il messaggero veneto di Udine adesso. Andiamo sul eh messaggero veneto di eh Pordenone e vediamo eh la notizia di apertura che abbiamo già visto eh prima. Allora andiamo sulla foto eh notizia eh che troviamo a centro pagina via alla sedazione gassosa in terapia intensiva al Santa Maria degli Angeli sbarca il eh futuro. Un nuovo eh macchinario in dotazione all'ospedale eh pordenonese. Terapia intensiva arriva al futuro nella sedazione. Dalla prossima settimana utilizzata una sostanza gassosa. È una tecnologia tedesca con un macchinario all'avanguardia. Il direttore generale Simon dice pezzo dopo pezzo stiamo sviluppando il nuovo ospedale. Per il primario Bassi dice per noi è una eh rivoluzione. Tecnologia all'avanguardia dunque per un ospedale sempre più proiettato verso il futuro anche per eh l'anestesia. Ed ecco la eh doppia eh pagina dedicata a questa eh notizia. Andiamo nell'isontino adesso sempre con il messaggero veneto. Ecco la prima pagina del messaggero veneto di Gorizia. Accelerata percorso Italia. Già partito il terzo lotto. I lavori pubblici in eh primo piano. La prossima settimana l'apertura del controviale tra via ventiquattro maggio e via Bellini. L'assessore Bellana dice le aiuole rimosse sono nelle nostre selle. Le ripiantumeremo. Andiamo adesso sul piccolo. Il piccolo di eh Trieste. Ecco la prima pagina. Ecco il titolo di apertura. la crisi dell'otto per mille cattolico. In regione calo di donazioni al Vaticano. Boom di eh valdesi e eh buddisti. Una notizia approfondita poi nelle pagine due e tre del piccolo di oggi. Ecco tutto l'articolo. Donazioni in calo al Vaticano. Contribuenti del Friuli Venezia Giulia tra i meno generosi nei confronti della Chiesa eh cattolica. Diminuite in regione anche le preferenze a favore dello Stato. Fanalini di coda, l'unione evangelica battista e gli eh apostolici. Ecco il titolo e poi anche in questo caso tutti gli approfondimenti e anche tutti i eh numeri eh sui beneficiari dell'otto per mille in eh Friuli Venezia Giulia e in eh Italia. Ecco i i dati e le tabelle che confrontano i numeri del duemila e otto con quelli appunto del duemila diciassette per eh le l'otto per mille alla Chiesa Cattolica si registra una eh variazione del sei virgola due eh per cento. Ancora sempre sulla prima pagina delle piccolo di Trieste nel taglio alto il porto assume sette mila in eh fila boom di domande da ogni parte d'Italia nonostante i posti siano eh soltanto eh quindici arrivano da ogni parte d'Italia e sono davvero tanti un esercito di sette mila persone. E poi vediamo che Costa Crociera conferma che nel duemila diciotto nessuna nave eh della linea costa attraccherà a eh Trieste dopo che nei negli anni scorsi il capoluogo regionale era stato meta di diverse eh crociere della eh costa. E poi ancora sempre sul piccolo a centropagina Dio Mobili Arredi sparisce la pasticceria di eh Joyce Trieste perde un pezzo di eh storia e anche un'attrazione eh turistica. I nuovi proprietari hanno deciso di disfarsi degli arredi della storica eh dello storico eh locale e eh appunto di cambiare completamente il eh il la pasticceria. Chiudiamo il piccolo e andiamo adesso sul gazzettino il gazzettino di eh Pordenone in apertura vediamo anche in questo caso strappo nel governo Costa lascia ma andiamo a vedere le altre notizie che ci arrivano eh dalla nostra regione e dal Pordenonese in particolare norma regionale blocca i soldi alle ronde in Friuli. Il centro del il centro sinistra infila nella legge della manovra estiva un emendamento che taglia la strada alle intenzioni dei comuni di Pordenone e eh Trieste. Ecco il titolo e poi sulla prima pagina del fascicolo dedicato al Friuli vediamo eh tutti i eh particolari ronde niente soldi per legge. I comuni di Trieste, Pordenone e Monfalcone non potranno fruire di fondi regionali. Un emendamento presentato da lauri di Sella alla manovra estiva stoppa qualsiasi finanziamento. Entra nel vivo il braccio di ferro tra la regione e i comuni che intendono attivare sui propri territori i cosiddetti volontari per la sicurezza. Il messaggio rivolto a Pordenone, Trieste e Monfalcone è inequivocabile e contenuto in un emendamento all'articolo 10 della manovra di assestamento di bilancio ancora da esaminare elaborato dal consigliere Lauri ma sottoscritto anche da PD e cittadini. In sostanza la modifica chiarisce che i finanziamenti regionali di parte corrente previsti dal programma di sicurezza 2017 a favore dell'operatività dei volontari della sicurezza sono rivolti a sostenere esclusivamente le attività di formazione, educazione e supporto per la sicurezza stradale. Dunque servono principalmente per le attività dei non paletta fuori dalle scuole e non di certo secondo le intenzioni del centro-sinistra per finanziare l'operatività delle ronde padane sostituendosi alle forze di polizia. Queste le parole di Lauri che ha messo a punto questo emendamento che dovrà ancora essere discusso dal consiglio regionale alle prese in questi giorni proprio con l'esame delle variazioni di bilancio. Andiamo adesso nel Pordenonese, andiamo nel taglio basso, ciclisti e pedoni indisciplinati scatta la linea dura per chi sgarra, vigili pronti a multare chi sbaglia. Basta biciclette sotto i portici, ciclisti che viaggiano con le cuffiette o attraversano gli incroci senza scendere, dalle due ruote, ma stop anche con i pedoni che non rispettano le regole e ignorano le strisce pedonali. Scatta la linea dura per chi sgarra e sono multe. Ed è proprio questa la notizia che apre il fascicolo del gazzettino dedicato a Pordenone. Ecco tutto l'articolo. Vigili sollecitati a multare chi in bicicletta non si comporta secondo le regole del codice. nel mirino finiscono anche i pedoni che attraversano la strada evitando le strisce. Ritorniamo adesso in prima pagina sempre sul gazzettino e andiamo a vedere velocemente anche gli altri articoli che ci arrivano dal Pordenonese. A Sacile, Livenza, sporco e inquinato, competenza della regione a Pordenone. L'appello salvate mia figlia serve un donatore di midollo. L'appello lanciato da un genitore che ha una figlia che necessita di un trapianto di midollo. Anche in questo caso poi nelle pagine interne troviamo tutto l'articolo. Siamo in chiusura ora di questa prima parte di rassegna stampa, tra poco la pubblicità, prima però con l'aiuto della regia. Andiamo a vedere il box che ci ricorda gli appuntamenti principali di oggi su Udinese TV. Eccolo alle 15.40, basket femminile under 19, la partita tra Italia e Spagna. Al torneo di Spilimbergo, le due nazionali si preparano al mondiale under 19 e poi alle 21 in diretta speciale ritiro in collegamento con i ritiri di Udinese e Portenone per tutte le ultime sulle due squadre. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi fare i puntati proprio sullo sport, sulle notizie sportive di oggi. Rimanete con noi.